aspetta aspetta e mia che ti hai fatto dopo? aspetta non ci compri la bottiglia no per carità non ti tirassi i pantaloni così no no Flock non vieni sul video che è un disastro vediamo che vuoi fare vedere? come il cazzo mia? no faccio fumare senti ma Ennio invece che fa? faccio fumare no come faccio fumare? come faccio fumare? com'è Fabrizio? com'è Fabrizio? c'è Troia Fabrizio c'è Troia Fabrizio c'è Troia e poi che fai? perchè devi perdere i pantaloni? perchè devi perdere i pantaloni? Fabrizio vieni e ti puoi fare e ti puoi fare no 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 leva su qui non ti vedi Fabrizio non ti vedi guardi come sei Troia? sei Troia come sei? eh? vuoi il cazzo? eh faccio vedere il cazzo dai dai eh? eh? davamo ciucci Fabrizio ha visto che sta a fare? eh 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 oh ah eh 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 oh ah 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 ahah oh Agni oco allora che devi fare No, non mi chiamai neanche, non mi chiamai, non mi chiamai, non mi chiamai, che si affassa a giocare, ma com'era il negro di peluccia, il negro di peluccia, bellissimo, sei stupendo, tanto sei bello, Egno, Egno che dici? C'è qualche problema con Egno? Io secondo me lo ammazzerei.